Raffaele Volpi si sta impegnando in prima persona per questa campagna delle elezioni europee qui nel Lazio ma in tutto il sud Italia. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di raccogliere innanzitutto attorno a tre tematiche importanti, basta euro, lavoro e sicurezza, una piattaforma politica che è una piattaforma che non ha colore necessariamente ma che ha come leadership evidentemente la Lega con le sue battaglie e con il suo segretario Salvini. Siamo presenti in tutte e tre le circoscrizioni, quindi centro, meridionale e isole con delle liste molto qualificate, peraltro seguendo anche l'onda positiva di questa campagna referendaria siamo certi che avremo dei grandi risultati con candidature locali che rappresentano in particolar modo le autonomie e un mondo che ormai si è trovato orfano da certi valori. Qui a Roma addirittura inaugurate una sede della Lega Nord, perché? Perché Roma ha la possibilità di dare molto, ha voglia e bisogno di avere punti di riferimento nuovi e penso che sarà anche questo un successo, non solo per la sede ma come si dice sempre nelle sede ci sono delle persone e qua abbiamo veramente delle persone che hanno voglio di lavorare per il futuro dei propri figli. Tra questi quelli dell'Associazione Patria, chi sono? Tra questi associazioni patrie che vengono da un profilo di destra ma che insieme ad altri daranno un contributo forte, anche perché vogliamo dirlo con chiarezza, il progetto non finisce con le elezioni europee ma ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento politico per una politica diversa e non sicuramente a termine. Quindi è un progetto che diventi anche politicamente contrattuale con tutte le istanze della gente che ci seguirà.